Il filotto di vittorie che abbiamo avuto ci permette di lavorare con molta personalità e molto entusiasmo. Sappiamo che dal 7 comincerà un altro campionato e noi ci dobbiamo far trovare pronti, ma di questo sono molto sicuro. Gianmarco Piccioni, uno dei volti nuovi della Fidelis, ha scelto il biancazzurro dell'Andria per tornare quello del biancazzurro di Matera. Di certo il neo attaccante degli Andriesi non è uno che si pone limiti. La capolista Tim Altamura è distante realmente 12 punti e virtualmente 9 lunghezze, ma... La storia ci insegna che 9 punti, 12, poi se dovessimo vincere la parte contro una campionata diventerebbero 9. La storia ci insegna anche molto recente, vedendo l'anno scorso, che 9 punti si possono recuperare. Poi il girone H nel girone di ritorno è sempre un campionato a sé a parte, quindi ci sarà da lottare, sarà difficilissimo, però noi sono sicuro che staremo lì fino alla fine. Non è scoccata la scintilla nella prima parte di stagione a Nocera Inferiore, inevitabile l'addio. Ho parlato con il mio procuratore, gli avevo espresso la voglia di cambiare a Nocera perché secondo me era arrivata a capolinea la mia esperienza. Devo essere sincero, il direttore e il presidente sono quelli che mi hanno voluto più fortemente. Per me la scelta è stata molto facile, poi io sinceramente volevo tornare in un girone che è mirato tanto e che mi è piaciuto molto l'anno scorso. Quindi è stata una cosa molto rapida e veloce e penso di aver fatto una scelta molto più che giusta secondo me. Piccioni ad Andrea tornerà ad essere quello di Matera con i Lucani, ha realizzato 16 retti nello scorso campionato di Serie D. L'obiettivo è quello, poi nel calcio niente è scontato e bisogna sempre riconfermarsi. L'obiettivo è quello sinceramente, anche perché voglio ritrovarmi anch'io e voglio togliermi quasi qualche sassolino sinceramente. Per rincorrere la vetta i margini di errore sono pochissimi. Fondamentale partire con l'acceleratore premuto per il trittico di impegni in otto giorni, domenica a Nardò, poi il secondo tempo con il Manfredoni a mercoledì 10 e la sfida interna contro la Palmese, e quattro giorni dopo la faccenda più complicata è quella con i Neretini. Affronteremo una grande squadra che sarà protagonista fino alla fine per la vettoria del campionato. Il Nardò non lo conosciamo oggi, poi è allenato da uno dei migliori allenatori della categoria, quindi sarà una partita bella, bellissima, perché se non sbaglio il Nardò tornerà a giocare nel suo stadio. Ci sarà una bella atmosfera, sarà la prima di 17 partite importantissime, difficilissime, perché incontreremo il Nardò la prima giornata, ma saranno tutte battaglie da qui fino alla fine del campionato.